Preghiera del mattino Signore Gesù, Tu sei nato falegname, figlio di un falegname e figlio di Maria, abitante di Nazareth. Tu ti sei incarnato per davvero senza temere di perdere il tuo tempo nel corso di 30 anni di vita nascosta, sconosciuto da tutti. Non avevi dunque fretta di salvare il mondo? È questa vita nascosta fedele, apparentemente inutile, che salva il mondo. Quando bisogna salvare, parlare e agire, Tu allora parli e agisci, controcorrente se ve ne ha bisogno. Signore, nel corso di questa giornata, questa vita sia la mia vita. Amen.